state ascoltando la lingua e le cose una rubrica prodotta da lernilango un'infrastruttura online per l'apprendimento della lingua italiana per saperne di più e per leggere la trascrizione del podcast vienici a trovare su lernilango.com per adesso buon ascolto della prima intervista l'italiano dei social network quattro chiacchiere con chiara l'interdipendenza tra pensiero e linguaggio rende chiaro che le lingue non sono tanto un mezzo per esprimere una verità che è già stata stabilita quanto un mezzo per scoprire una verità che era in precedenza sconosciuta la loro diversità non è una diversità di suono e di segni ma di modo di guardare il mondo con questa citazione di chereni si apre il capitolo secondo del saggio social linguistica di veragheno di cui oggi voglio parlarvi ma ve ne voglio parlare per fare una introduzione alla prima intervista che abbiamo prodotto sull'ernilango ho fatto quattro chiacchiere con mia cugina chiara abile e esperta conoscitrice del mondo dei social e del web molto più di me ho fatto quattro chiacchiere con lei sulle parole dei social network e sulle storie che hanno dato vita a queste parole prima però di farvi ascoltare questa intervista è necessario fare una piccola introduzione per capire meglio l'argomento i contenuti dell'intervista e dunque incominciamo la lingua come modo di guardare il mondo è uno degli argomenti principali di cui tratto in questa rubrica di podcast la lingua le cose che vuole appunto esplorare il rapporto tra lingua e cultura italiana la lingua come ho già avuto modo di dire in altri episodi è quell'elemento che ci rende umani e cioè la grande differenza tra noi e gli animali siamo esseri umani perché parliamo una lingua quindi cito veragheno come possiamo sottostimare l'importanza della lingua ridurne la centralità pensare che in fondo come parlo è indifferente tanto l'importante che il messaggio arrivi la lingua è un atto di identità così come gli accessori e gli abiti che indossiamo raccontano qualcosa della nostra identità sono una bandiera della nostra identità così lo è la lingua e il modo in cui la usiamo il modo in cui scegliamo le parole da usare eccetera proprio come cambiamo gli abiti in base alle occasioni e situazioni così usiamo varietà della lingua diverse in base al contesto alle occasioni alle situazioni nel secondo capitolo del suo saggio veragheno descrive le caratteristiche dell'italiano dei social della rete con il solo obiettivo di descrivere questo italiano e non di insegnare a scrivere sui social né di disapprovare questa specifica varietà di italiano descrivere per mostrare mostrare per rendere la gente più consapevole semplicemente e allora iniziamo innanzitutto l'italiano dei social che tipo di italiano è scritto parlato il dibattito sulla definizione di questa varietà è ancora aperto talky writing il linguaggio discorso elettronico discorso scritto interattivo visibile parlare questa definizione molto bella o ancora italiano parlato digitato testo chiacchierato scrittura conversazionale eccetera 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 sono solo alcune delle definizioni che sono state date a questa particolare varietà di italiano da numerosi studiosi e numerose studiose ma comune a tutte le definizioni è la presenza delle due categorie di scritto e parlato prendete ad esempio visibile parlare cioè un parlare che è visibile ed è visibile grazie alla scrittura si nota infatti in molti studi che la varietà di italiano dei social presenta elementi dello scritto e del parlato ma non è tutto perché nonostante presenti elementi dello scritto e del parlato questa i lingua va oltre lo scritto e il parlato perché possiede delle caratteristiche che sono appunto legate alla e di lingua delle caratteristiche cioè che sono intrinsecamente elettroniche e che dipendono dunque dalla comunicazione mediata da computer da tablet da smartphone infatti saper scrivere non equivale a saper digitare saper parlare non equivale a saper digitare quindi questo italiano dei social ha delle caratteristiche della lingua scritta della lingua parlata e della comunicazione mediata da dispositivi elettronici differenti ma dopo questa parentesi introduttiva entriamo nel vivo di questo episodio e vediamo qualche caratteristica di questo italiano dei social partiamo dalle prime tre caratteristiche gli acronimi le tachigrafie e i troncamenti un acronimo e una parola formata dalle iniziali di altre parole molti sono gli acronimi inglesi usati da italiani e italiane sui social questo perché la rete ha origini anglosassoni facciamo qualche esempio uno dei più diffusi è asap cioè as soon as possible il prima possibile abbiamo anche btw by the way tra l'altro a proposito o faq frequent ask questions domande poste di frequente o ancora omg oh my god oh mio dio ed infine il famosissimo lol laughing out loud cioè ridere rumorosamente è possibile però online trovare anche degli acronimi italiani per esempio molto diffusi sono gli acronimi tvb cioè ti voglio bene che può avere delle varianti come tv tb ti voglio tanto bene tv 1 mdb ti voglio mondo di bene t adb ti amo di bene eccetera eccetera questa è solo una piccola lista degli acronimi della rete per scoprire gli altri vi invito a leggere il saggio di gheno lì potrete trovare tantissimi altri esempi di questi acronimi passiamo ora alle tachigrafie cioè alle scritture abbreviate è molto comune trovare nn con il significato di non o cmq con il significato di comunque o x con il significato di per o grz con il significato di grazie o msg con il significato di messaggio o b4 con il significato di b4 prima o x ke con il significato di perché ed infine x o con il significato di però innovazioni della rete queste tachigrafie in realtà no perché erano diffuse anche in passato un noto scrittore italiano che tutti e tutte abbiamo studiato a scuola giacomo leopardi usava le tachigrafie quando scriveva vro per vero q di o per quando eccetera di nuovo vi invito a leggere il saggio per scoprirne di più infine un'altra caratteristica del web sono i troncamenti cioè i tagli all'interno della parola ci si vede diventa cisi cellulare diventa cell pomeriggio diventa pome ragazzi diventa raga rispondi diventa rispo aperitivo diventa ape amore diventa amo ricordo quando ancora ci scambiavamo messaggini e non esisteva whatsapp che concludevamo sempre i nostri messaggi con risp per favore questo riferimento ai messaggi non è casuale scrive infatti gheno che in passato i messaggi si pagavano e quindi dovevamo essere sintetici per non pagare troppo ma ora che esistono gli abbonamenti qual è la scusa secondo gheno semplicemente il bisogno di velocità di digitazione per quanto riguarda invece il lessico voglio parlarvi dei maccheronismi e degli storpionimi perché questo è stato proprio l'argomento di cui abbiamo discusso con chiara nell'intervista un maccheronismo è una parola straniera scritta in modo italiano ad esempio underground inglese scritto a n d e g g r a u n d o fake inglese scritto f e i c fake uno storpionimo invece è una parola scritta in modo diverso alterato ad esempio aiuto scritto a i u t o scritto in modo alterato al ghiuto cioè a g l i u t o adesso vi faccio ascoltare l'intervista così potete vedere degli esempi concreti di storpionimi e maccheronismi di cui abbiamo discusso io e chiara vi chiedo scusa in anticipo se in alcuni punti il suono non sarà buono abbiamo fatto questa chiacchierata su skype quindi vi auguro per adesso buon ascolto e buon divertimento soprattutto allora per iniziare voglio spiegarvi come nasce la parola screenshot in realtà per conoscere un po' l'origine di certe parole un po' sorpiate che ci sono sul web bisogna conoscere degli eventi della cultura trash italiana tipo screenshot che in realtà non è tanto screenshot ma strinsho con la t con la t quindi s t r i n s c i o strinsho ok e da quale parola inglese viene questo screenshot screenshot ok va bene e da dove proviene proviene da un'intervista che vede fatta ad una signora siciliana lo scorso anno alla fine della prima quarantena dopo il lockdown quello più forte e questa signora era in spiaggia a mondello in sicilia ma chi ma è quella di mondello non ce n'è sì 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 ah no sì praticamente lei vede invitata dopo questa intervista in spiaggia in un programma televisivo dove si difendeva dalle accuse che gli venivano fatte e niente praticamente esordì dicendo barbara ogni strinsho ogni strinsho e quindi da lì è nata sul web questa parola per ogni volta che si vede dire screenshot si dice strinsho perché per adorare questa cosa ok però spieghiamo questa cosa anche di covid cioè come è nata covid racconta brevemente questa cosa questa signora che dopo appunto tutto il periodo di lockdown duro insomma le misure non erano ancora molto leggera nel senso che bisognava stare attenti ancora e questa signora andò in spiaggia così a farsi il bagno non mi ricordo forse maggio giugno e la andarono intervistare e chiedendole se appunto lei avesse paura insomma se fosse preoccupata e lei si girò urlando non ce n'è covid non ce n'è covid ecco qua il famoso covid da covid esatto covid da covid e quindi da quel momento in poi sul web se tu dici covid e metti anche una d in più parte in automatico non ce n'è covid cioè non ce ne può fare a meno ok ma ci sono meme su questa cosa dei meme delle cose ok va bene allora quando quando nella trascrizione del podcast poi metterò i link per i meme i link per il video e vi farò vedere tutti questi questi episodi della cultura trash italiana ecco per capire meglio il contesto sì ok e quindi è partito da questa signora come si chiama questa signora ricordami credo angela si è messa anche su instagram cioè ha fatto un profilo instagram e tipo in un giorno ha fatto tipo 500 mila followers cioè una cosa obrobriosa una cosa obrobriosa cioè per 500 mila follower in un giorno per semplicemente sulla spiaggia dire non ce n'è covid ha fatto una canzone con un video musicale anche lì un video musicale non ce n'è covid in barba alle misure restrittive ok metterò il link anche della canzone nella trasmissione ma ecco un'altra cosa che dobbiamo spiegare hai detto questa signora è andata da barbara da barbara d'urso per fare questa cioè chi è barbara d'urso spieghiamo brevemente chi è barbara d'urso sì barbara d'urso è una presentatrice italiana di programmi televisivo per i diavi credo e basta cioè non so se ne fa altri però lei è rinomata sul web per essere una figura diciamo che le pagine trash attingono molto alla sua figura quindi regala tanto materiale su cui lavorare vi farò vedere anche queste cose vi manderò dei link per informarvi su barbara d'urso possiamo dire che è tipo la opera winfrey italiana un po più trash un po più trash però di opera winfrey direi che lei ha sempre questi ospiti in studio molto particolari cioè non lo so persone molto trash sì 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 interessanti eccentrici dai ecco va bene ok quindi abbiamo parlato di screenshot hai qualcos'altro da dire su screenshot cioè tu quando lo usi screenshot in che contesti facciamo sentire questo quando ti parte lo screenshot su su mentre stai scrivendo un messaggio un commento sui social quando parte lo screenshot ma secondo me alcune parole tipo screenshot ti fanno proprio parti cioè ti parte la battuta storpiata cioè ti parte la parola storpiata nel momento in cui tu la vuoi usare nel modo corretto cioè se tipo se tipo io so con un mio amico e dico guarda ho fatto questo screenshot magari la prima volta dico screenshot ma per ripetere poi la battuta dico lo scrinscio hai fatto lo scrinscio ok cioè quindi lo fai per ironia in contesti ironici cioè non lo useresti seriamente questo questo termine scrinscio no no in maniera goliardica tra amici in maniera goliardica capisco sì ok ok lo useresti anche per esempio nei commenti dei social questa parola scrinscio per fare una battuta per esempio o più nella chat di whatsapp no sì anche sui social però c'è ovviamente nei contesti in cui verrebbe colta ok ho capito quindi se sai che il pubblico può capire il riferimento senza offendersi diciamo ok va bene altro da aggiungere su screenshot passiamo un'altra parola un altro maccheronismo non è nient'altro non viene nient'altro dimmi dimmi lovare mi hai detto lovare lo lovare allora lovare viene da to love e si trasforma in inglese si trasforma in lovare per richiamare la desinenza dei verbi italiani all'infinito ok tipo amare quindi si italianizza e prende due v sì l o v v a r e ok lovare così l o v v a r e ok dal verbo to love inglese sì è italianizzato in lovare perché in italiano il corrispettivo è amare quindi lovare e quindi poi prende tutta tutta la declinazione tutta la scusami tutta la coniugazione del verbo tipo io ti love sì assolutamente ok sì ti loviamo mi lovate sì sì ok quindi praticamente diventa come un verbo italiano però con la parte inglese e attenzione non è un prestito questo dall'inglese è semplicemente un maccheronismo c'è una parola che si usa in contesti ironici sì no no assolutamente non si usa in contesti insomma seri ok in realtà si usa di meno adesso si usava più una decina di anni fa diciamo 2009 ricordo che ci fu proprio 2008 2009 ci fu il boom di lovare ci usava molto sui social all'epoca cioè nel senso e adesso di meno però credo che alcuni lo usino ancora e suscitano un po tipo di oh mio dio ma quanto sei antico no esatto oppure un po da bimbo minchia magari sì posso dirle queste cose questa è un'altra cosa il bimbo minchia questa è un'altra cosa interessante bimbo minchia scritto con la k bimbo m i n k i a ok sì era bimbo e minchia come spieghiamo il bimbo minchia aspetta perché sul saggio di veragheno c'è un riferimento al bimbo minchia un attimo eh che lo cerco così vi leggo la definizione di bimbo minchia allora da qualche parte c'è un momento eccolo qua l'ho trovato l'ho trovato k in co allora un bimbo minchia è nel gergo della rete giovane utente dei siti di relazione sociale che si caratterizza spesso in un quadro di precaria competenza linguistica e scarso spessore culturale per un uso marcato di elementi tipici della scrittura enfatica espressiva e ludica quindi grafie simboliche contratte emoticon emoji eccetera eccetera quindi questo è un una definizione scientifica trovata sul tre cani nella sezione neologismi di bimbo minchia quindi diciamo che lo vare adesso può essere associato sì assolutamente perché rientra nella categoria di quelle espressioni che nel tempo per la nostra generazione perché c'è questa cosa importante secondo me per la nostra generazione poi hanno perso insomma non si usano più tantissimo quindi se ancora le usi e beh secondo me ci sta tanto definirti bimbo minchia perché sono un po rimasto no all'epoca dei delle abbreviazioni no che si usavano cioè perché non si usano più neanche cioè come stavi dicendo due le abbreviazioni no cioè non si usano più perché adesso non abbiamo più i messaggini esatto quindi non ha senso abbreviare le parole per risparmiare spazio esattamente quindi per abbreviare stiamo parlando di quello che troverete prima nel podcast delle tachigrafie cioè per esempio dire non con nn o comunque con cmq cioè in passato c'era un motivo per queste cose perché ovviamente pagavamo tutti i messaggi allora pagando tutti i messaggi dovevamo essere concisi perché altrimenti pagavamo uno sfondo di soldi e non ne valeva la pena invece adesso diciamo è più rimasto appunto cioè non paghiamo più i messaggi ci sono gli abbonamenti quindi chi continua a scrivere queste cose ti arriva un messaggio con però o perché è scritto xke dici oh mio dio questo bimbo minchia ecco questa è la prima reazione paradossalmente forse lo utilizzano più le persone ad uspe ma questo sai che è vero non tanto noi che ormai cioè ce l'abbiamo superata come fase invece loro sono i nuovi bimbo minchia sono i nuovi bimbo minchia le generazioni più più grandi sì 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 tante mamme di amiche di mie amiche lo fanno cioè quando mi arrivano messaggi vedo però perché è scritto in questo modo è vero ottima considerazione va bene allora quindi altri altri maccheronismi tipo fake o vediamo un po now queste cose qui ok 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 sì ok ok sì però scritto quella k cioè anche quella c però tipo ok ma scritto o c c h e i anche sì sì dai anche sì ok scritto così questo pure lo vedo molto onestamente ok anche questo italianizzato anche true story scritto t r u s t o r i true story true story sì assolutamente questo sì ma penso che questo ci sia anche cioè non è una cosa tanto solo l'italiano no cioè si utilizza un po' tutto sui social true story no qui è veri true story e veri sad story però scritto in modo italiano quindi t r u s t o r i questo scritto come maccheronismo però la scrittura inglese sarebbe true story quindi t r u e s t o r y due parole true e story invece in italiano si scrive a volte true story tutto attaccato diventa una sola parola sì che noi noi lo scriviamo come lo pronunciamo no esattamente lo scriviamo come lo pronunciamo esatto proprio questo è il punto dei maccheronismi cioè scrivere come pronunci l'italiano la veste fonetica italiana esatto sì sì un altro molto usato anche io vedo molto è fake cioè da fake inglese f a k e scritto f e i c questo pure lo vedo questo penso che venga utilizzato più quando è un po' tipo per collegarci a agli storpionimi dopo cosa sono dopo storpionimi sì secondo me fake e gomblotto possono condividere lo stesso spazio perché me lo immagino tipo un fake scritto in questo modo sotto un post di un non lo so un complottista che oppure tipo quelli che condividono magari no le notizie super palesemente false cioè girano così sul web e quindi tu rispondi con fake fake new fake è un complotto è fake però tipo anche sotto magari a cose ah ecco no perché fake secondo me potrebbe essere usato anche in maniera ironica sotto a foto o video davanti alle quali tu rimani un po' incredulo no cioè tipo certo che ne so uno che fa una cosa incredibile fa il triplo salto mortale e tipo dici no questo è fake che secondo me è fake tipo così no e lo scrivico là così sì sì cioè è la prima cosa che mi è venuta in mente però per dare un'idea no del come potrebbe venire usato tipo sotto questo fake sì sotto un post di un qualcosa diciamo non ci credo vero vero magari scrivere fake fake new scritto fake new f e i c staccato n i u cioè fake new c'è notizia falsa inglese scritto con la pronuncia italiana cioè con la grafia italiana questo questo molto diffuso questo pure l'ho visto tantissimo sì sì ma possiamo fare un accenno invece ad un altro storpionimo che ultimamente aspecchia che non ti sento mi senti vai sì stavi dicendo possiamo fare un accenno a cosa storpionimo maccheronismo cosa vuoi dire allora scusami è un maccheronismo quale altro shock because shock because che cos'è sta cosa shock because no sentiamo che cos'è shock because beh ma è esplosa questa cosa quindi ultimamente dopo questo è cultura politica eh però nel stress praticamente dopo la caduta del governo di Renzi praticamente venne fuori una sua intervista che in realtà è un'intervista di qualche tempo fa forse anni fa e lui è riconosciuto un po' no per questo suo pronuncia inglese un po' terribile terribile e quindi cioè non so da dove cioè chi l'ha tirata fuori questa cosa e su cui ha iniziato a girare da morire questo pezzo di una sua intervista è un pezzo di una sua intervista in cui lui dice first reaction shock shock because è tipo il because e cioè è un because che non è because è because ok con questo accento un po' strano sì ma proprio assolutamente stranissimo cioè che tu non puoi fare a meno di ridere e quindi da quel momento diciamo che su cui è esplota questa cosa del shock because cioè se ma come si scriveva ma come si scriveva shock because shock e s c i o c eh no non tanto normale no ok cioè ma si scriveva come in inglese tipo shock come in inglese no s h o c k no 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 è s c i o c ok shock così in italiano con la grafia italiana e because because cambia sempre because cioè a un certo punto tu fai magari scrivi b i c e poi mettere a caso ok b e tipo una u e ma si come il suono francese ok metterò metterò il link di questo video anche di shock because shock because e quindi sì cioè tipo b i c o e o a u cioè un po' lettera vabbè troverò vedremo come si è divertito il web magari la e il suono francese o è because lecchi anche con la diere si con la diere si sopra vedremo faremo una ricerca online per cercare shock because va bene ok quindi questi erano solo alcuni esempi dei maccheronismi che abbiamo visto adesso un po' sul web esatto esatto ah e dobbiamo dire come ultimo prima di passare agli storpionimi smart worky smart worky anche smart worky adesso ha una storia molto carina smart worky sì è quella vero sì sì praticamente anche questa poi vedi in durante il 2020 cioè ne sono nate tante di cose allora praticamente smart worky nasce perché Conte il presidente durante una sua conferenza per leggere il dpcm il decreto del presidente del consiglio dei ministri spiegare e praticamente doveva spiegare doveva consigliare credo no di 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 lavorare il più possibile da casa per chi potesse farlo no in modo tale da non spostarti da casa niente gli uscì smart worky smart working lavorare in smart worky e quindi da quel momento in poi smart worky cioè chi frequenta il web non esiste smart working smart worky esatto scritto s-m-a-r-t v-u-o-r-c-h-i smart worky cioè scritto così in italiano ma no guarda secondo me non con la u ma con la o cioè il termine è scritto correttamente però elimina n-g alla fine ok è scritto quindi doppia v-o-r magari io ho visto anche doppia v-o-r-c-h-i smart worky cioè l'inizio inglese e poi la fine della desinenza italiana sì o così oppure doppia v-o-r-k-i k-i esatto o r-k-y anche ho visto io smart worky scritto così l'evoluzione di smart worky esatto questo è proprio un maccheronismo molto diffuso adesso va bene va bene allora Chiara cara Chiara passiamo adesso agli storpionimi che questi sono i più carini cioè ripetiamo gli storpionimi con le parole scritte in modo diverso alterato cioè per esempio aiuto scritto correttamente a-i-u-t-o scritto in modo alterato aiuto quindi a-g-l-i-u-t-o ecco e anche questi sono fatti per motivi ironici cioè ovviamente non lo scrivi seriamente lo fai in contesti ironici è un po' tipo italiani esatto gli italiani oppure vediamo un po' cosa c'è più per accentuare un po' non lo so una pronuncia scorretta da persone che magari non praticano bene la lingua o magari anche dei bambini sai anche per imitare i bambini perché i bambini non sanno pronunciare molto bene questo suono in italiano quando sono piccoli allora senti spesso dire aiuto aiuto no secondo me è più per imitare i bambini sì comunque allora quindi vediamo un po' qualche esempio di storpionimo che tu usi e perché lo usi in quale contesti e magari se c'è una storia dietro a questo storpionimo assolutamente gomblotto tanto abbiamo sfigato prima perché è gomblotto no tipo quindi scritto come scritto correttamente e scritto in modo storpiato allora in italiano corretto è complotto c o m p l o t t o ok storpiato lo storpionimo è gomblotto g o m b l o d d o gomblotto ok quindi gomblotto gomblotto ok è un po' come se avessi il raffreddore ma è un po' quello che abbiamo accenuto prima con fake no cioè il gomblotto si utilizza quando vedi la condivisione di fake news ma talmente palesi oppure tipo persone che iniziano a fare delle teorie strambe su eventuali spiegazioni complottissiche su un determinato evento e tu dici oh mio dio sei un gomblotto un gomblotto siamo posti per prendere in giro no chi 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 richiama sempre un po' il complotto i complottisti da social network come scrive qui per la grano i stessi che scrivono fate girare sveglia ok e magari questo si fate svegliere questo è molto molto popolare ci sono questi sono meme questi o sono post semplicemente cioè che cosa sono questi fate girare fate girare sono tipo delle catene le catene inviano le persone o sui social sì o tramite whatsapp anche ok e quindi mandano queste notizioni tipo nel vaccino del covid 19 c'è il non lo so l'uranio l'uranio sì hanno messo un veleno potentissimo perché oppure tipo vogliono controllarci attraverso le antenne nel 5G fate girare perché io ho scoperto che è così e quindi si grida il gomblotto gomblotto mio dio gomblotto così spieghiamo spieghiamo che cos'è una catena anche c'è questa cosa perché magari in altre culture non esiste questo concetto della catena cioè come la descriveresti catena sono quei messaggi di qualunque natura in realtà che possono riguardare qualunque cosa ricordo che anni fa erano messaggi in cui c'erano prima delle storie d'amore oppure tipo delle frasi carine e poi sotto c'era fai girata invia a 10 amici invia questo messaggio a 10 amici così questo tuo desiderio si avvererà è nata così la catena la catena di Sant'Antonio Gretina e poi vabbè nel frattempo si è evoluta magari non c'è più questa cosa del fai invia ai tuoi amici così ti avvera il desiderio però è tipo invia ai tuoi amici così che conoscano la verità e quindi adesso quando si grida il gomblotto per le catene è perché magari queste catene contengono tipo delle notizie che stranamente conoscono soltanto pochi eletti nel mondo e quindi il loro dovere è quello di risponderle il più possibile ok quindi praticamente una catena è un messaggio che si manda a tante persone lo possiamo mandare sui social lo possiamo mandare su whatsapp per email ecco un messaggio che dobbiamo condividere con gli altri praticamente per far sapere oppure per realizzare i nostri desideri si deve aggiungere quanti più contatti possibile ok perfetto va bene magari cercheremo degli esempi sui social e mettiamo il link nella trascrizione così magari facciamo vedere un esempio di catena con magari sotto un bel commento con blotto così diamo un esempio pratico di questo allora un esempio di catena è tipo un messaggio che mi è arrivato ultimamente in cui c'è scritto shocking apertura sì il vincitore del premio nobel 2018 bla 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 il dottor bla 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 ha fatto scalpore oggi nei media dicendo che il virus corona non è naturale poi anche qui il virus corona cioè si vede che sono dei messaggi talvolta un po' tradotti così cioè così molto alla buona però oltre ad essere un esempio di catena di Sant'Antonio e quindi di gomblotto di teoria del comblotto è anche un buonissimo spunto per utilizzare un maccheronismo io adesso avrei risposto se la persona coglie la reference certo avrei risposto shock because shock because oppure gomblotto oppure gomblotto fake news gomblotto no fake news no se lo ha veramente quella la usi quando non lo ha però gomblotto e questo è un esempio che ci ha dato Chiara di questo come usare gomblotto ecco se volete fare gli italiani gomblotto contro di noi e poi vediamo un po' altri altri storpionimi che usi che sono qui nella lista o che magari non ci sono nella lista briachello lo usi briachello lo usi questo lo usi questo è complicato da spiegare briachello viene da ubriaco in italiano ubriaco drunk in inglese sarebbe ok ubriachello è un po' c'è un po' deriva credo dal dialetto forse dialetto romano vediamo un po' ma anche il nostro cioè ubriachello è ubriaco l'aggettivo più il suffisso ello cioè che è un suffisso che mettiamo per fare il diminutivo cioè ubriaco ubriaco ubriachello non è proprio ubriaco ma è un po' ubriaco no? come dire un po' un po' un po' alticcio un po' alticcio non completamente ubriaco un po' brillo questa è la parola giusta e quindi mbriachello con la mb iniziale è uno storpionimo però che viene effettivamente dal dialetto sicuramente dal dialetto romano sto mbriago ecco questo mbriaghello questo è uno storpionimo che viene dal dialetto e com'è la canzone di quel tizio come si chiama come è un mbriagato come si chiama un mbriagato ecco qua c'è una canzone di mannarino che è un cantatore italiano romano e c'è questa canzone che è un mbriagato cioè un titolo romano quindi vi metto il link anche di questa canzone così vedete cioè sentite l'accento romano e vedete da dove viene questa parola e un mbriachello è molto usato e ovviamente in senso ironico cioè non sì parli al medico se vai dal medico all'ospedale perché sei ubriaco e dici sono un po' mbriachello no non è un contesto giusto non è il contesto giusto è sempre un contesto informale insomma quello in cui si usa mbriachello cioè è normale perché è come se stessi un po' parlando un dialetto dialetto sì dialetto un simpatico tra amici così mbriachello esatto vedi il tuo amico che è un po' al ficcio dice ah sei mbriachello è un po' mbriachello ok il punto degli storpionimi è che a volte cioè si tende proprio a parlare come i bambini cioè a usare lo stesso modo di parlare dei bambini infatti sul saggio di Veragheno c'è scritto baby talk cioè c'è scritto storpiature assortite quasi baby talk cioè nel senso storpiamo la grafia delle parole e arriviamo a volte a parlare proprio come dei bambini e secondo me un esempio di questo è la famosissima pagina cos'è Instagram Facebook che cos'è? Instagram la pagina Instagram di Musetti Animaletti cioè allora spieghiamo che cos'è Musetti Animaletti perché questo mettere etti questo suffisso etti che indica qualcosa di carino di piccolo è molto diffuso adesso nella lingua dei social nell'italiano dei social si usa tantissimo e anche io e Maria Chiara in alcuni nostri scambi di messaggi mettiamo etti a qualsiasi parola così puoi scherzare sì sì perché quando inizi a parlare così poi ti viene continui con etti la parola deve finire con etti vai vai nasce da nasce da una pagina Instagram che si chiama appunto Musetti Animaletti e questa pagina nella trascrizione sì pubblica foto di animali qualunque animale gatti, cani, papere, tutti buffe in realtà un po' fotobuffe in cui la didascalia la descrizione è una frase in cui tutte le parole finiscono con etti musica è una descrizione è una descrizione della foto con etti con etti tipo c'è un gatto che dorme c'è un gatto che dorme e loro scrivono giornetti pesantetti eccolo qua ok oppure quello di alitetti quello era proprio carino qual'era? alitetti fognetti di fognetti tipo un animale che ha la bocca aperta era un pesce era un pesce con un bassotto e poi sotto c'era scritto alitetti di fognetti cioè alito di fogna cioè alito di fogna questo era il punto oppure vediamo qualcun'altra carina oddio qua ti posso ti unisco uno storpionimo a un maccheronismo ok sentiamo c'è un video di di un gatto al quale viene avvicinato un fiore ok e sotto c'è scritto first reactionetti sciocchetti quindi praticamente è una citazione della cosa di Renzi dell'aero intervallo di Renzi first reactionetti nella pagina di Musetti anima Renzi ok quindi first reactionetti sciocchetti first reactionetti sciocchetti va bene ok allora metteremo tutti i link per farvi vedere per farvi vedere queste cose cioè così potete avere un'idea di che cosa stiamo parlando e quindi sì questo cioè io per esempio io e Maria Chiara lo usiamo tanti quando parliamo tra di noi in chat su whatsapp ripeto quando siamo così che dobbiamo sentirci e siamo un po' in mood ironico usiamo etti in tutte le parole e magari qui c'è sempre importante poi conoscere la reference no ma come in tutte le parole in tutti gli storpioni e i maccheronismi che si usano sul web cioè è importante conoscere la reference o comunque il il contesto no perché se tu utilizzi queste parole con persone con persone che non masticano magari determinati ambienti determinati cioè magari non conoscono neanche un po' il mondo del web cioè se tipo io dovessi parlare in questo modo con mia madre non capire nulla esatto quindi secondo me le reference sono importanti anche in questo caso se tu devi dopo che tu conosci vieni a conoscenza della pagina di Musetti Animaletti non puoi fare a meno di iniziare a parlare così però è importante che ci sia prima il passaggio del scoprirla questa pagina esatto giusto va bene ok allora abbiamo abbiamo detto abbastanza magari se questo episodio piacerà faremo un secondo episodio parleremo parleremo di nuovo con Maria Chiara e troveremo altre cose interessanti dell'italiano del web un piacere niente cara Maria Chiara grazie a te vedremo che reazione avranno gli ascoltatori le ascoltatrici del podcast a questa intervista però positiva va bene grazie mille grazie mille ciao ciao dunque che dire dopo aver ascoltato questa intervista a parte che io e mia cugina ridiamo troppo in generale abbiamo realizzato che la lingua dei social è molto creativa e ironica credo che le persone diano il meglio di sé nel creare delle cose che a volte sono estremamente divertenti e geniali anche a differenza di ciò che molti pensano scrive Geno questo italiano della rete dei social di internet dei dispositivi elettronici non mostra ignoranza da parte dei parlanti incapacità e scarse competenze linguistiche mostra invece una grande forza creativa possiamo dire che l'italiano dei social è l'italiano delle nuove generazioni che si sa più delle vecchie popolano il web gli abitanti del web hanno trovato un modo per compensare cose come il tono della voce le espressioni del viso la posizione del corpo che sono caratteristiche della interazione faccia a faccia usano le lettere maiuscole o tanti punti esclamativi se vogliono gridare le emoji per comunicare emozioni specifiche digitano dei puntini di sospensione per creare suspense o incredulità insomma quanta creatività c'è in questo grazie per il vostro ascolto ci sentiamo alla prossima ciao ciao